Cesare Ferro Milone, viaggio verso il Siam. Allora, parliamo di una mostra curata da Angelo Mistrangelo, in atto tra giugno e settembre 2018 presso la Pinacoteca della nostra Accademia Albertina. Si è trattato di un allestimento multimediale sensoriale che parla dell'incontro tra Siam e Torino, reso possibile grazie alla processa collaborazione di Enrico Zanellati, che ringraziamo. Allora, il Siam è l'attuale Thailandia, dove il maestro Cesare Ferro Milone soggiornò alla corte del sovrano locale agli inizi del Novecento. Intenzione degli studenti è stata far rivivere l'atmosfera di questi viaggi, tra il Siam e Torino, e ricreare l'atmosfera siamese, attraverso grandi proiezioni a parete e a pavimento, e grazie anche ai suoni e agli odori tipici. Allora, continuando nella presentazione, possiamo vedere un assaggio della ricerca iconografica, che è il punto di partenza tendenzialmente di ogni progetto da noi elaborato. A seguire, invece, possiamo vedere i due dipinti scelti dal curatore che sono poi diventati parte integrante della nostra installazione come proiezione. A seguire abbiamo un render che spiega al meglio l'impostazione delle due sale. Vediamo a parete appunto una proiezione di uno dei due quadri che abbiamo animato. Ai lati della sala abbiamo due schermi LCD con una riproduzione continua di foto e ritratti di Cesare Ferro Milone, eseguiti durante i suoi viaggi tra il Siam e Torino. E a pavimento abbiamo una proiezione delle onde dell'oceano, anche perché l'acqua è il trade union tra le due città, diciamo, tra i due paesi. Qui vi mostriamo il render delle due sale affiancate. A seguire abbiamo ancora qualche render e il posizionamento delle due sale all'interno della planimetria della Pinacoteca. Poi, ecco, qui entriamo un pochino più nello specifico circa l'animazione dei nostri quadri. L'elaborazione e la movimentazione dei nostri quadri, in generale dell'animazione, è stata tendenzialmente la stessa. Si è trattato di individuare... Li abbiamo distaccati, sono stati distaccati. È stato ricreato lo sfondo retrostante. Ogni elemento è stato movimentato grazie all'utilizzo dell'effetto marionetta e poi è stata piazzata una camera 3D per l'animazione degli elementi. Il tutto tramite software After Effects e Photoshop di Adobe. A seguire abbiamo l'animazione della ballerina Roshanara. Roshanara fu una celebre ballerina indiana arrivata a Torino in occasione dell'esposizione universale del 1911 che stregò tutti con la sua bellezza, compreso Cesare Ferromirone. Anche per lei abbiamo utilizzato lo stesso metodo che abbiamo descritto prima per movimentare i suoi movimenti. Invece a seguire ci occupiamo dell'animazione dell'oceano che è stata un pochino differente perché ha richiesto l'utilizzo anche del software Blender 3D. Il processo ha comportato l'individuazione di un video adotto allo scopo che abbiamo montato in loop e portato alla durata necessaria. Quindi abbiamo individuato la linea della riva, come potete vedere in presentazione. Abbiamo fatto in modo, utilizzando lo strumento maschera sia su Blender che su Adobe After Effects che l'onda portasse e cancellasse brani di una poesia piemontese scelti dal curatore Mistrangelo. Ecco qui, da ultima cosa vi mostriamo alcune fotografie dell'allestimento. Abbiamo i Lumilight informativi progettati dagli studenti per esplicare al meglio le fasi della progettazione ed alcune fotografie delle due stanze. Inoltre, come potete notare, in affiancamento alle nostre proiezioni a parete troviamo anche i dipinti originali del maestro Cesare Ferromilone. Quindi all'interno di queste due sale il pubblico entrando avrà la sensazione di camminare sulla spiaggia ed imbagnarsi i piedi nel mare tra le strofe di una poesia. Grazie. Grazie.